Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GenityDNA e a questo unboxing un po' particolare come ho già accennato sul mio canale avrei fatto in futuro qualcosa di diverso non solo inerente ai videogiochi quindi finalmente mi è arrivata la bellissima GoPro ho preso la GoPro il ventosone e una microSD per la GoPro da 64GB quindi questa la lasciamo qui e partiamo subito GoPro Hero 3 Black Edition che praticamente, vabbè, può fare anche le foto in Full HD, video, bla 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 e bla 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 andiamo ad aprire ad aprire che cazzo l'hanno chiusa sta roba qua andiamo ad aprire la confezione e la micchia che cazzo di scotch è? il super scotch ok, qua praticamente questo lo mettiamo via qua c'è il l'hanno chiusa come un come un salami bene bene qui abbiamo il telecomandino della GoPro ma cosa ha attaccato minchia che avevano paura che che adesso vediamo oh oh mi serve un attrezzo il tronchesino per togliere questi fottuti cose ok qui abbiamo il il telecomandino della bellissima GoPro funziona anche funziona funziona anche questo qua come cazzo va dentro come cazzo questa cosa qua presumo che forse qui abbiamo la GoPro bruttina la bella GoPro mettiamola qui e qui cosa c'è vabbè abbiamo il un foglietto con non lo so poi abbiamo il manuale poi abbiamo un altro manuale e qui dentro dovremo avere sei fissaggi poi un cavo USB che questo dovrebbe essere per caricare il telecomando se non vado errato sì penso di sì o per uno o per l'altro uno dei due e questo è presumo per collegarlo al computer qui abbiamo altri fissaggini qui abbiamo la batteria altri accessori accessori accessorietti un altro accessorietto e poi che cazzo c'è ancora qua dentro un po' di stickers un po' di stickers della GoPro tanto per fare un po' di di pubblicità e poi basta poi c'è dentro ancora un po' di stickers dovrebbe esserci dentro il 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 software no vabbè presumo che andrà non ho preso ok quindi qui abbiamo la nostra GoPro con il telecomandino tutti i vari accessorietti che li mettiamo un po' in ordine un po' in ordine qua non ho preso il display perché c'è un'applicazione per l'iPhone per gli smartphone praticamente iPhone e Android che ci permette di vedere tramite il telefono via Wi-Fi quindi apriamo anche il questo è il ventosone che andrà sulla mia motina portini e vabbè qua c'è la microSD da 64GB ora perché ho preso questa GoPro ho preso questa GoPro perché voglio fare dei video in giro con lo snowboard con la moto e quant'altro la userò anche per fare i vlog per fare l'unboxing e magari farò anche dei vlog diciamo sempre inerenti ai ai videogiochi magari oppure qualche video acquisto ma magari lo farò tipo magari che ne so all'esterno in qualche location un po' particolare per non rompervi sempre le palle con questo sfondo tastiera tavolo e quant'altro tra l'altro questa cosa l'avevo già comunque messa in descrizione nel mio canale quindi prima o poi sarebbe arrivata guardate qua quanto bel il popò di roba e niente questa è un unboxing un po' particolare quindi ragazzi spero che le novità che farò con questa bellissima cosa vi piaceranno tra l'altro ce l'ha anche un mio amico quindi magari faremo qualche montaggio video insieme quindi vediamo di fare qualcosa di carino qua è tutto da GeneticDNA vi aspetto con i gameplay e tutto quanto adesso i casini del lavoro si stanno un po' appacificando e potrò magari avere più tempo per dedicare al canale ciao ciao a tutti da GeneticDNA grazie a tutti